Hey la ragazzi chat training e bentornati qua su minecraft Ragazzi mi sto dando da fare qua con la legna E dai e droppami Mi serve qualche alberello li ho finiti non ce ne stanno più Comunque praticamente raga sto preparando un po' di cose Ho una fornace accesa sto convertendo la legna in carbonella Perché come sapete il carbone scarseggia Ho già fatto altro carbone che ho utilizzato Mo vi spiego raga Oggi voglio costruire voglio iniziare a costruire il porto Allora adesso vi faccio vedere Pippofil06garosio Questo è un commento parecchio vecchio devo dire Probabilmente questo commento è vecchio forse due tre mesi vecchio Non lo so molto vecchio Comunque appunto come vi dicevo io i commenti me li conservo E poi quando ho tempo costruisco Quindi ho tirato fuori questa vecchia richiesta E praticamente Pippo dice lì che costruisci un porto e un faro Allora oggi cominciamo dal porto E poi piano piano andiamo avanti Allora vi stavo a dire che per l'appunto ho già preparato qualcosa Allora grazie alla nostra farm di pietra ho fatto un po' di pietra Ho già convertito un po' di roccia L'ho cucinata E sto a fare altra carbonella perché ovviamente ne serve tanta no per cucinare Quindi quanto meno così ci portiamo avanti Un po' di legna magari la posiamo direttamente Allora ragazzi quindi oggi facciamo il porto giusto Ok Allora qui sto a fa carbonella va bene Praticamente ragazzi il porto è naturale che lo devo fare dove ci sta acqua E l'unico punto ideale è lì sotto Lì c'è tanto spazio Stavo pensando quindi di portare questa strada La sotto in modo tale che questa è la strada che collega casa nostra con il porto Quindi che famo? Iniziamo a scavare Ci stanno vari buchi raga purtroppo qui in giro Vecchi creeper disgraziati che fanno danni Poi ne approfittiamo per sistemare questo schifo Dovrò sistemare qua E soprattutto prima o poi devo decidere cosa farci con questo spazio enorme qua Da qui ho preso diverse cose nel tempo E quindi prima o poi questo spazio lo devo togliere E devo metterci dentro qualcosa di carino Perché così non si può proprio vedere Va bene fino a qua è sufficiente Perché ora poi devo decidere come costruire questo porto Allora per intanto sappiamo che la stradina va fatta in pietra Quindi direi che Questi blocchi qua che ho trovato nello zaino Li piazziamo qua Ci vogliono molti più blocchi però quantomeno Ok allora E la stradina Quanto meno c'è Va bene Va bene Va bene Allora Allora Diciamo che i blocchi di pietra mi servono comunque E ne servono sicuramente un bel po' di più di questi Quindi dovrò farmare ancora un po' di blocchi Allora dunque da qui si sale E mo' praticamente Devo decidere L'altezza di questo porto Perché lo voglio fare in un modo un po' particolare Parecchio grande Potrei partire da qua Ora qualcuno magari non capirà questa forma Perché voglio fare una cosa un po' diversa Perché non è la prima volta che costruisco un porto Non voglio crearne Non voglio creare due volte lo stesso porto No? Come nelle altre serie Quindi vediamo Aspetta però fino a qui forse sono andato un po' troppo avanti Forse No forse che però può andar bene Perché arrivo in acqua Fatto sta che poi devo girare Ma credo che mi viene meglio Se lo faccio da qua sopra Ok vorrei provare a fare una cosa un po' diversa Una cosa che E a qui sto riflettendo adesso Non so se può funzionare E' una cosa un po' Una cosa un po' che mi mette paura Non so se può funzionare Però insomma voglio fare una forma strana Voglio dare una forma strana a tutto ciò Allora la parte diciamo così del molo E' da 9 blocchi devo farlo Quindi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Ovviamente 10 perché da qua riprendiamo Ok E' bello grande devo dire Molto grande Però magari qui sopra poi ci costruiamo qualche cosa Per ora è soltanto un botto di spazio E un bel alberello sano L'ho raccolto Potrebbe bastare come potrebbe non bastare Ok questo è il secondo albero che abbatto Benissimo Quindi in tutto Quanto ho fatto? 3 stack di legna raga In tutto 3 stack E allora Devo fare in modo che da qui io possa scendere Quindi in modo questi li riprendo Perché qua non devo fare altro Devo fare qui una Diciamo una scalinata Per ora metto la pietra Poi ovviamente Appena arriva il momento di abbellire Abbelliamo come si deve Ok allora Ho in mente l'idea E' un po' scomodo Ma devo fare così ragazzi Questo è il molo Quindi devo allontanarmi Parecchio Perché questo è il molo Almeno I blocchi erano 64 No? Quindi Se mi allontano Fino a qua Penso che può bastare Perché Più lungo Non ha molto senso Facciamo Un attimo questa cosa E adesso Devo andare Da questa parte E da questa parte Devo andare Per 9 blocchi No? Uh Allora vediamo se mi riesci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poi ci metto questo Perché ora io devo andare Teoricamente da questa parte Se non sto a fare cavolate Ci sto azzeccando Teoricamente Teoricamente ci sto azzeccando Ok? Perfetto Il tutto Combacia E fino a qua ci siamo Allora ragazzi Credo che l'ideale È riempire il tutto Così qua posso camminare Tranquillamente Allora devo scegliere un materiale Per riempire Qua il tutto E che Che Caspita Ci metto Visto che ci vogliono Tonnellate e tonnellate Di materiale Secondo me L'ideale è sempre La legna Perché è una di quelle cose Che bene o male Non manca Potrei mettere sempre La legna della giungla Anche perché È facile da fare E ne ho già un bel po' Quindi quella è l'idea L'idea è quella Mo' Devo solo Applicare tutto ciò Ok Ho convertito Tutta la legna Ne è uscita un bel po' Comunque sempre Non basta Stavo pensando Di fare un'altra cosa Con il calcestruzzo Pensavo di aggiungere Un blocco In più Sopra In questo modo E fino a qua Ci siamo Allora Quindi I Blocchi Li ho Posati qua Quelli di legna Quindi li riprendo Devo Piazzarli Beh veramente Li devo piazzare Ovunque Perché utilizziamo La legna Come Pavimentazione Ed è l'ideale Farlo Perché la legna È facile da fare Allora Ci vogliono anche I scalini Cavolo Beh li posso fare Già ora E li famo Sempre con Sti blocchi Qua Perché Insomma Devo un po' Risparmiare E poi magari In futuro Li posso anche Cambiare Ma per il momento Mi servono Ok raga Allora Ultimi tre scalini Perfetto E fino a qua Ci siamo Quindi Teoricamente È così Che va fatto Ok Bene Questo muretto Per ora Penso che Così va bene In caso poi Se mi viene in mente Un modo più bello Per farlo Ovviamente Lo faccio Per il momento Andiamo a Mettere Quanto meno Il pavimento Così possiamo Lavorare Qua sopra Ok ragazzi Allora Quanto meno Il molo Diciamo Che L'ho fatto No Almeno la pavimentazione Qui ragazzi Devo metterci Questi blocchi qua Ma messi all'insù Solo che non ne ho più Perché Li ho convertiti Tutti E Poi ragazzi Praticamente Mo vi spiego Anche perché Ho scelto Di scendere Con il molo Dovrò Prima o poi Costruire Una bella Barca No E quindi Diciamo che È meglio Fare un molo Basso Per non Creare una Barca Troppo alta Che poi Magari È brutta Da vedere Perché io Voglio fare Uno yacht Più avanti No E quindi Lo yacht Non è Non è poi Tanto Tanti È alto Ma non voglio Farlo altissimo Che poi Sembra una Nave da Crociera Non certo Non voglio fare Quello E quindi Preferisco il molo Un po' più Basso Allora Naturalmente Devo riempire Pure qua Con questi Blocchi Perché comunque Appunto È complicato Fare Blocchi Diversi Bisogna Farmare Ore 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 E non ho Tutto questo Tempo Quindi se Posso Utilizzo Materiali Più Semplici Da Raccogliere E quindi La legna È abbastanza Facile Da raccogliere Soprattutto Quando Si ha La giungla Vicino Ok Finalmente Non ci credo Tutta quest'aria È tappata Un po' di blocchi Mi avanzano pure Allora Questi qua Li devo andare A mettere Qua sotto Avevo lasciato Apposta Questi blocchi Qua Praticamente Perché questo Lo metto Qua E qua Ci metto Questo Allora Togliamo anche Sti due Ok Raga Perfetto Allora Vediamo un po' Non ho tanti Blocchi di pietra Credo proprio Che Devo andare A A A Farmare Un po' di blocchi Di pietra Andiamo a casa Raga Perché Servo Servo un bel po' Di pietra Quindi direi Proprio Che Una Dieci minuti Di farmata Ok Ragazzi Vediamo Penso che Ho fatto abbastanza Pietra Credo Dai Andiamo un po' A controllare Basta così Che mi sono stancato Speriamo che c'è Basta Perché Già da un bel pezzo Che spacco pietra Ta 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 o mica male dai Allora ho intenzione naturalmente di mettere dei pilastri perché non può appoggiarsi sul nulla No Questa struttura non può appoggiare sul nulla Quindi vediamo un po' Ci mettiamo qua E devo mettere almeno due pilastri Facciamo così Ehm Poi In questo modo Diciamo che regge almeno un po' Un po' esce e un po' rimane dentro E allora adesso noi che facciamo Facciamo in questo modo A girare Scendiamo E creiamo un pilastro Ok ragazzi Finalmente anche il quarto pilastro è pronto Naturalmente la pietra non bastava purtroppo Quindi Ne ho farmata un altro po' Ehm Ma almeno raga Finalmente qua è fatta Allora e ancora ce ne vuole tantissima altra di legna Ehm Di pietra legna in generale Qualsiasi cosa ce ne vuole tanto Va bene Facciamo una bella cosa raga Togliamo sti cosi qua che non si possono proprio più vedere Questi li ho piazzati praticamente All'inizio Di questa serie Questi è Questo qui era il porto iniziale Ragazzi Sti blocchi qua Erano il porto all'inizio E qui era una volta il faro Diciamo così Piccolo Ne Punto d'avvistamento Più che altro Che ha fatto una brutta fine per colpa di qualcuno Chiamato Uno che inizia con la P Probabilmente Probabilmente Credo eh Comunque ragazzi Allora ecco qua i pilastri One E tu E io anche Allora Praticamente Mo raga Qui la cosa Va fatta come si deve No Quindi Credo proprio che li alziamo ancora un po' Allora 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 Qui mo Ho in mente Un'idea Ho in mente Un'idea Allora Mi servono Mi servono Mi servono delle lastre di pietra E per quello che ho preparato un po' di pietra Quindi Vediamo un po' Potrei fare Allora Questi E facciamo E facciamo Un po' di questi Ok Poi li vado a mettere tutto attorno in questo modo Tutto attorno così Poi ragazzi Mi servono anche i scalini Mi servono Quindi Ne facciamo Un po' Mo vediamo Come posizionarli Perché non è proprio semplice No Aspetta Lì no Ok In questo modo E Poi volevo fare Ci voglio mettere qua dentro Praticamente Una cosa Allora Innanzitutto Fatemi fare No Innanzitutto Fatemi dormire Perché prima che Un'altra volta Vengo assalito dai Dai mostri Ci stanno Moi Disgraziati Qua sotto E non mi fanno più dormire Quindi il letto Per ora Lo spostiamo Ma se no Qua Non mi fanno dormire Ok Allora Stavo dire Innanzitutto Fatemi fare Quello che ho fatto qua Quello che ho fatto qua Lo vado a ripetere In tutti e quattro Ok Allora Guardate un po Fatto questo Allora Dobbiamo andare un attimo a casa Perché Mi servono Quattro Incudini E mi servono Anche Quattro blocchi Del nether Più un acciarino Praticamente Voglio illuminare Diciamo così Il molo Con Con il Con i blocchi Del nether E poi Voglio mettere Quattro Incudini Come Punti di ancoraggio Per Punti di ancoraggio Per l'ancora Diciamo No Non per l'ancora Ma insomma Per legare le navi Con il Con il molo No Allora Voglio sistemare Un altro problema Qui sotto I mostri Non vanno bene Quindi Illuminiamo un po' Qua sotto Per evitare Che sti dannati Spawnano Qua sotto Perché tanto Poi alla fine Qui devo coprire Quindi E comunque Questo rimane Spazio Che rompe Le scatole Allora Ragazzi L'incudine La mettiamo Qua Questo è Diciamo Il punto D'ancoraggio Per le navi E Altri due Ovviamente Li mettiamo Qua Anche se Qui Comunque A dia La verità Una nave Non ci passa Però Vabbè Magari Spianerò Quella sabbia Non ci ho pensato Che è un po' Stretto Qua Vabbè Però Se può Fa Allora Poi Ora È da vedere Speriamo Che non Brucia La legna Vediamo Se la legna Brucia Raga In caso Ho in mente Un'altra idea Devo vedere Se c'è il rischio Che brucia La legna Perché Se prende fuoco Devo fare Una cosa Veloce Credo Che può Resistere O se no Facciamo Facciamo In modo diverso Per non Rischiare Per non Rischiare Che qualcosa Bruci O soprattutto Che mi brucio Io Ho in mente Un'idea Facciamo una cosa In modo diverso Facciamo così E Teoricamente Ecco Oh Se può fare Se può fare Anche così Praticamente come ho fatto I pilastri di casa Però In questo caso Per un altro scopo L'ultima volta Che ho fatto Sto giochetto Era per i pilastri Di casa Adesso è per Un altro motivo Allora Mosti incudine Rompe le scatole Un attimo Lo spostiamo Ma se può mettere Così Ok Perfetto Fatto ciò Mettiamo Questo Qua dentro E adesso Facciamo così Ok Così Nessuno Rischia di Bruciarsi E il fuoco E il fuoco E parecchio Più in alto Quindi non dovrebbe Mai e poi mai Bruciare il legno E un'ottima idea Così è perfetto Ok Raga Fatto Benissimo E il molo Almeno E' pronto Almeno lui Ragazzi E' pronto I pilastri Ci stanno Ci stanno I punti di ancoraggio Per le navi Ci sta L'illuminazione Fino a qua E' tutto a posto Adesso Devo Praticamente Sistemare Meglio La parte La parte Che c'è qui sotto Per fare ciò Ho bisogno Di tanti altri Blocchi Di pietra Per ora Consumiamo Questi Allora Sti cosi qua Non mi servono E li butto Sta a fa buio Dormiamo Prima Allora Andiamo Praticamente A Tappare Il tutto In questo Modo Quindi Devo Praticamente Girare Così Ma tanto Mo' E' Complicatissimo Mi conviene Fare un'altra Cosa Mi conviene Prima Passare Per di qua Così Poi Riesco Con più Facilità A tappare Qua sopra Quindi Arrivo Più o meno Dov'è qua Ok Allora Faccio Prima La parte Così Praticamente Devo Chiudere Va Devo Semplicemente Chiudere Chiudiamo Il tutto E poi Troviamo Un modo Per abbellire Ok Adesso Ragazzi Chiudo In questo Modo Così Che non Si vede La parte Di sotto Del Molo Anzi Meglio Dire La parte Di sotto Del Porto Vabbè Qualcuno Ogni tanto Riesce a Spawnare Lo stesso Ma Va Bene Sempre Meglio Di prima Allora Ok Raga Allora Guardate Un po' Ho Praticamente Chiuso Tutto E Perché Poi Comunque Devo Fare Un altro Tipo Di Devo Fare Un'altra Facciata Devo Fare Allora Però Manca Da chiudere Teoricamente Qua Quindi Io Qua Vado Praticamente A Chiudere Il Tutto Ho Chiuso Tutto Perché Poi Devo Fare Un altro Tipo Di Facciata E Questa Facciata Qua Si Vedrà Un po' E Darà Un Certo Effetto Praticamente Saranno Diciamo Così Il Muretto Questi Sono Il Muretto Allora Diciamo Tipo Che Poi Devo Fare Dei Pilastri Adesso Ancora Non So Come Ho Bisogno Di Pilastri Fatto Sta Che Per Ora L'idea Mia È Quella Di Girare Attorno A Questo Così Non Si Vede Il Bianco Devo Girare Tutto Attorno Ok Ok Arriviamo Fino A Qua Perché Qui Ovviamente Poi Sale No Per La Stradina Quindi Per ora Va bene Così Devo fare Qualcosa Di Simile Qua Che Giustamente Qua Allora Magari Tipo Sale Anche Qua Non lo so Qualcosa Ma la Deve Inventare Così Magari Quindi Questo Qua No Ok Qualcosa Di Simile Ma la Devo Inventare Per Forza E Ovviamente Sto a Fattuto Un po A Fantasie Quindi Non è Proprio Semplice Ci Posso Mettere Qua Le Sbarre Di Ferro Per Non Usare Troppa Pietra Quindi Per ora Mettiamo Queste Qua Questi Blocchi Ok No Nel Medio Evo Penso Che Un po Di Ferro Ce L'avevano No Quindi Penso Che Ci Può Stare Fino A Qua Qui Pensavo Qualcosa Di Simile Se Avete Un'idea Migliore Ditemelo Quindi Mi sa Che Ho Fatto Troppe Sbarre Per Niente Vabbè Prima O Poi Le Uso Da Qualche Parte Ok Fino A Qua Almeno Recintato Ancora C'è Tanto Altro Da Fare Raga Ma Al Momento Ho Finito Le Idee Quindi E Anche Il Tempo Quindi Ragazzi Penso Che Per Il Momento Mi Fermo Qua Spero Che Questo Gameplay Vi Sia Preciuto Se Avete Qualche Suggerimento Da Darmi Ovviamente Non Esitate A Commentare Iscrivetevi Ragazzi Lasciate Anche Un bel Mi Piace Condividete Il Video Se Vi Va Vi Saluto Ragazzi Ciao Alla Prossima